Al Festival di Sanremo, ma soprattutto negli studi di Radio Bruno, abbiamo il 3. Benvenuto! Allora, senti, tu hai cantato per ultimo, ma poi alla fine sei quello che ha avuto più successo dal punto di vista mediatico, perché Fiorello ha praticamente parlato solo di te. Sei andato a casa a mangiare dalla mamma? No, diciamo che non ho avuto il tempo materiale, anche se di tempo ce n'era, però sono stato in hotel, mi sono rilassato, ho visto il festival sul letto, quindi proprio rilassato, e poi verso l'una, così, con calma mi sono avviato. Senti, com'è andata poi sul palco? Quali emozioni hai provato? Che cosa hai pensato? Cioè, avete modo anche magari di pensare, di rendervi conto che in quel momento siete lì? Sì, guarda, sul palco è una grande emozione, io mi sono principalmente divertito, ti dico la verità. Non ho pensato a cantare bene, a cantare male, a essere... sono stato me stesso al 100% e mi sono divertito. La canzone, un titolo, Fragili, che oggi, accendendo la televisione, leggendo i giornali, ascoltando la radio, è una parola che sentiamo molto spesso, ma oggi che cos'è la fragilità? Beh, la fragilità è ciò che comunque ci accomuna a tutti noi esseri umani, chi più chi meno, ognuno di noi è fragile a modo suo, e comunque sia a modo di imbattersi appunto in fragilità, tormenti interiori, demoni, e quindi ecco, questo è ciò che ci accomuna e queste sono le fragilità. Ma tu hai una ricetta magari da dare agli amici che ci stanno seguendo, ai ragazzi, soprattutto ai giovani che ci seguono? Ma io semplicemente ho scoperto, per mia fortuna, di avere il dono della scrittura e di mettere in musica quello che mi tormenta, ed è quello che faccio, è la mia terapia. Per le persone che comunque non tutti hanno un talento canoro, magari ecco c'è chi ha un talento in uno sport, quindi magari può cimentarsi in quello, o magari qualsiasi altra cosa è utile, purché diciamo sia costruttivo e formativo per noi stessi. A Sanremo siete in tanti amici, vi siete ritrovati in tanti, è bello l'amicizia nella musica, è sempre molto bella. Sì, è una gara di base, ma io non la sto vivendo così e credo neanche gli altri. Quando comunque ci incontriamo nei corridoi degli hotel siamo tutti molto amichevoli, ci conosciamo, quantomeno io personalmente non la vivo come una gara, ma come un bel momento, cioè siamo 30 prescelti ed è giusto che noi ci godiamo questa esperienza al massimo. Finito Sanremo, cosa succede per il 3? Finito Sanremo ci sarà sicuramente un tour estivo, quindi ci vedremo in giro. Abbiamo una data il 9 novembre che verrà al Palazzetto dello Sport di Roma, però ci sarà un tour e poi ci saranno tante altre cose di cui non sono a conoscenza, però piano piano insomma adesso sono concentrato sul festival. Perché poi i cantanti non è che sanno sempre tutto, tutto, tutto. Intorno hanno uno staff, ne vediamo, avete tantissime persone, c'è una persona particolare che senza di lei tu dici mi sento un po' perso? Beh, una sola è difficile. Io comunque mi muovo sempre accompagnato da Giorgio, che è il mio manager e amico, prima che manager, Arianna. Ecco, forse sì, senza di lei sarebbe tosta. E poi c'è il mio cane che l'amo e non vedo l'ora di tornare in hotel da lei. Appena finito di cantare è il mio primo pensiero, sai, l'acqua, il da mangiare, avrà sicuramente fatto pipì per terra, quindi vai a pulire, insomma, è un macello. Come si chiama? Riri. Rini, bau 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 bau. Allora, noi ti ringraziamo, lasciamo i microfoni per un saluto agli ascoltatori di Radio Bruno, che so che ti seguono e sei molto amato. Grazie.